Almeno 30 coltellate sul corpo di una donna di 35 anni, un'aggressione brutale alla periferia di Monopoli, tale da ridurre in fin di vita un'operaia di un'azienda agricola, mamma di un bambino di 3 anni e mezzo. A tendergli la trappola il suo ex compagno, un bracciante agricolo, rintracciato dai carabinieri in un paese vicino. Della sua posizione se ne sta occupando la procura di Bari. Intanto la ricostruzione dei fatti conduce al primo piano di questa palazzina di via Monsignor Carlo Ferrari, dove vive la donna, che sarebbe scesa questa mattina alle 5 per andare al lavoro, ad attenderla sotto casa l'uomo. Da quanto emerge da racconti di più persone, era nell'auto parcheggiata per strada. Prima un litigio, che sarebbe diventato subito violento, poi le coltellate, 30 almeno, dicono gli inquirenti, che hanno ridotto in fin di vita la donna. La madre di lei avrebbe assistito inerme all'accaduto, ma ha subito chiamato il 118 e i carabinieri. Ora, la 35enne lotta tra la vita e la morte. I sanitari parlano di danni a un occhio, del collasso di un polmone e di molteplici traumi all'addome e al torace. Nelle prossime ore sarà sottoposta a più interventi chirurgici per cercare di salvarle la vita. I rapporti fra la coppia pare fossero compromessi da tempo. In passato, il presunto aggressore era già stato denunciato dalla compagna. Poi erano tornati insieme, ma non avrebbe funzionato. Fino al tragico epilogo alle prime luci dell'alba di questa mattina.